Allora, meeting internazionale di Nizza, Nadia Battocletti batte il suo precedente record italiano promesse, prima volta sotto i 15, ma soprattutto chiudete le valigie, si va a Tokyo. Nadia Battocletti, 14.58, allora questa gara come è andata? Sono davvero molto felice, diciamo che il mio obiettivo era ottenere la qualificazione per Tokyo che era 15.10 e sicuramente non mi aspettavo un tempo al di sotto dei 15 minuti. Allora, una gara che ti ha visto all'inizio molto regolare, poi a un certo punto hai preso l'iniziativa per aumentare leggermente negli ultimi giri, come hai percepito tu la gara dall'inizio alla fine? Allora, diciamo che il mio obiettivo era riuscire a superare i 3 chilometri e nel momento in cui superavo i 3 chilometri la gara era praticamente finita, mancavano 5 giri, quindi pensavo semplicemente 5 giri, 4 giri, 3 giri, 2 giri, ultimo giro, vai! E adesso, dopo questo, diciamo, grande obiettivo raggiunto, rimane l'obiettivo Tokyo, dove bisogna correre ancor meglio a Tokyo, come ti avvicinerai a questo grande evento? Beh, sicuramente la prima Olimpiade è inaspettata, almeno fino a un paio di mesi fa, e sicuramente mi allenerò come ho continuato in questi mesi e spero di... sicuramente arriverò lì pronta. Ottimo, grazie Nadia e complimenti! Grazie!